Rulli Ruka e Gian Cristoforo Gabriele. Ricordo che le coppe sono state offerte dal quarto classificato Le Piscine e Le Giamelle, terzo classificato Rimportunistica e Salta. Seconda classificata, coppe offerto dal bar Pasqualone, La Piazza. La Piazza Lorenzo, la squadra di Andrè. Demian Tocci, Nasuti Andrea, Tommaso Moanue, Francesco Felliciotta, Marameri Alec, Bar Pasqualone, la coppa è stata offerta dal bar Pasqualone. Uno, due, due, la prima classificata del quinto torneo regionale 2017 tra i Rampanti Concezione. La coppa è stata offerta da Ezio Angelucci Rodondo Tecnico. Ferrante Samuele, Ramundi Alessandro, Alex Mammarella, Cucci Macchia, Fabio Masciarelli, Damiani Emanuele, e Charrapico Paolo. Bravo! 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 Vayetide Pene Bravo! Bravo! Luca Muniero! Allora, altra coppa alla squadra fair play, Fair play la giudica la squadra del San Rocco. Bravo! Bravo! allora il capo cannoniere Luca Rulli Barbone poi a pari merito il miglior portiere Damian Doci Eferrante Samuele Gravi Escof Prima di passare la parola al sindaco, veloce a un minuto solo Niente, come aveva detto Camillo l'altra sera noi ricordiamo sempre Antonio Di Loreto che è stato il promotore di questo torneo